Urne aperte dalle 7 alle 23 domenica prossima nei 34 seggi di Gubbio nei 20 di Gualdo Tadino per il rinnovo del Consiglio regionale. 27.962 gli elettori chiamati al voto a Gubbio, 12.893 a Gualdo Tadino. Per completare la radiografia dell'Alto Chiascio chiamato alle urne, i 1.170 elettori di Costacciaro si divideranno tra le due sezioni elettorali, così come a Sigillo, dove gli elettori sono 2.152, tre invece i seggi di Fossato di Vico per 2.203 elettori, così come a Schegge Pasce Lupo, dove gli elettori sono 1.381. Doppia scheda invece a Valfabbrica, l'unico comune della provincia di Perugia dove si vota anche per le amministrative. A contendersi la poltrona, che per dieci anni è stata di Oriano Anastasi, sono Roberta Di Simone, che guida la lista Uniti per Valfabbrica, e Maurizio Paparelli alla testa della lista Valfabbrica per il bene comune. Tornando alle regionali, gli elettori muniti di certificato elettorale e di documento d'identità potranno esprimere in maniera valida del proprio voto o assegnandolo al candidato alla presidenza, nel qual caso la scelta si estende alla lista o alla coalizione collegate, oppure la preferenza può riguardare il solo simbolo della lista, per cui il voto si estende al candidato presidente, o congiuntamente liste candidato presidente, oppure scrivendo il cognome o il nome cognome di un candidato alla carica di consigliere. La preferenza espressa in questo modo va perciò anche alla lista di cui fa parte al candidato presidente collegato. È possibile anche esprimere due preferenze, ma deve trattarsi di candidati di sesso diverso. Non è possibile esprimere voto disgiunto, così come non si può dare la preferenza a più liste collegate a candidati presidenti diversi. Diventa governatore della regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Le liste collegate avranno 12 seggi, per accedere a Palazzo Cesaroni serve però il 2,5%. Non più di 10 tra questi 12 vanno alla lista che ha registrato più preferenza all'interno della coalizione. I restanti 8 vanno alle liste collegate ai candidati non vincenti, che hanno ottenuto il 2,5%. Uno va al diritto al candidato alla presidenza miglior perdente.